Si estende a Nuorese la protesta degli agricoltori ai quali si è unito il movimento Pastori Sarti. È durata circa tre ore la marcia di protesta dei trattori sulle statali 129 e 131, con rallentamenti e blocchi al traffico a Singhiozzo. Un corteo di una settantina di mezzi scortati dalla polizia stradale è partito dal bivio di Bolottana per poi rientrare nel medesimo paese per fare il punto sulle istanze da portare a Roma e Bruxelles. Grazie.